Sport ed educazione, un connubio che nell'ultimo periodo ha fatto parlare molto di sé. Con Nino De Gregorio, uomo di sport, abbiamo chiacchierato e parlato di questa situazione particolare che ha coinvolto anche la cronica. Io l'ho sempre detto e lo farei, non rientro più nel mondo del calcio, ma lo farei ma lo facevo già prima, scuola e calcio a porte chiuse, fino a 12 anni, anzi proporrei alle federazioni di provare per un anno, scuola e calcio a porte chiuse, tu porti il bimbo, lo li vieni a prendere, è buono e ti disinteressi. Quanto a sapere di più, l'intervista martedì 2 aprile 2024 alle ore 21 su OMTV web. Grazie. Grazie.